Fa bene l'Austria perché semplicemente non si fida del governo italiano non si fida del governo italiano perché il governo italiano può entrare chiunque e non è vero che è solo il problema mettiamo i muri in mezzo al mare intanto quando noi facevamo i rispingimenti avevamo il PD che ci dava di disumani dicendo che i rispingimenti in mare non bisogna farli ma secondo luogo la prova, mi scusi, la prova provata che questo governo vuole fare entrare chiunque è che arrivano centinaia di immigrati clandestini all'interno del confine terrestre orientale non dal mare che provengono da altri stati europei e noi facciamo entrare e diamo qualsiasi tipo di servizio perfino in Friulenza Giulia hanno gli orari garantiti per accedere al servizio sanitario regionale che non è tutelare le emergenze che figuriamoci chiunque deve essere salvato in caso di emergenza della vita o comunque un'emergenza sanitaria ma danno ai richiedenti asilo, non a chi ha ottenuto lo status di rifugiato l'iscrizione al servizio sanitario regionale vuol dire anche per le piccole pratiche mediche e tutto a chi non ha diritto, va bene? benissimo, benissimo andiamoci in giro su questo Massimo Franco concorda sono l'accordo con lei